I televisori LG della serie LN570 sono Smart TV con pannello Direct LED. Il design di questi TV è curato sin nei minimi dettagli. Il pannello sottile è installato in una cornice elegante e minimale, che si fonde con la base per creare un unico elemento di design. La parte posteriore come al solito è dedicata alle interfacce. Diverse sono le connessioni disponibili che consentono facilmente di interfacciare il televisore con dispositivi audio e video esterni. Ci troviamo di fronte ad un prodotto che vanta un'ottima multimedialità. Questo TV monta un pannello Full HD Direct LED dotato delle più recenti tecnologie. La gamma dei colori è ottima, come anche il contrasto e la luminosità. La visione dei contenuti risulta perfetta grazie al Motion Clarity Index 100, che consente una riproduzione fluida delle immagini in movimento, senza alcun effetto scia. Come se non bastasse, a tutto questo si abbina un ottimo sistema audio 2.1 integrato, che restituisce suoni esplosivi e reali dotati di grande profondità. Il tutto si traduce in un'esperienza di visione senza precedenti. Le funzioni Smart TV sono sfruttate al massimo, grazie soprattutto al telecomando Magic Remote, con il quale sarà possibile spostarsi fra i menu e le schermate con estrema facilità, quasi come se utilizzasse un mouse ottico. Infinite sono le funzioni disponibili. Sarà possibile navigare su internet, guardare film o ascoltare la musica in maniera davvero semplice. Inoltre, grazie alla modalità wireless, usufruibile acquistando un adattatore, sarà possibile condividere tutti i contenuti con i tuoi smartphone e tablet di casa. LG regala un dispositivo completo, che viene venduto ad un prezzo piuttosto competitivo, un TV che si adatta bene ad un ambiente casalingo, dove è richiesta ampia versatilità.